pronti signori allora facciamo un test un test audio ah è vero c'è il mio logino tolgo il mio logo dai eeeh facciamo anche un attimo il test audio però perchè magari voi lo sentite sparato dopo eh infatti già ve lo abbasso un attimo riassumendo riassumendo il trailer riassumendo il trailer abbiamo dimmi una cosa quindi cos'è successo bla 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 perchè vuoi dato che puoi fare quello che vuoi puoi viaggiare dove vuoi intanto qua mentre parlano di timeline c'è la maschera di batman a terra andata e con del sangue fra l'altro lui dice che vuole proteggere la madre quindi c'è comunque un Barry che ci mostra finalmente un po' chi è cosa vuole raccontarci di sé non vuole perderla due volte non vuole perderla di nuovo sarà successo qualcosa di brutto eeeh e qua dice che ci sono c'è uno schema che si ripete quindi si parla molto del tempo certi mondi si attirano come calamite e parlando di attirarsi bam hanno detto che è stato molto bravo a fare la doppia il doppio ruolo il eeeh a fare più di un personaggio pare faccia anche il cattivo probabilmente c'è quel dark flash che potrebbe essere ancora lui quindi non vedo l'ora di capire le dinamiche tra i due flash e insomma eeeh se tu tornassi nel passato e questa è la Wayne Mansion non sai quali potrebbero essere le conseguenze e le conseguenze sono state evidentemente creare un mondo dove i supereroi non esistono quindi se i supereroi non esistono o almeno la gente con i poteri non esiste la terra è in pericolo infatti arriva Zod direttamente da dal primo superman eeeh man of steel eeeh questo è l'esero davanti è il flash chiaramente che già lo conosce quello dietro non l'ha mai visto infatti sviene lo vediamo quando dice si sono io sono batman ecco un michael keaton molto in carta pecorito diciamolo però c'ha gli anni che c'ha appena lui dice così eeeh lo vediamo svenire e perché eeeh perché si perché è batman eeeh sviene poi c'è il momento pipistrello la musica di barton molto figa qua si torna a eeeh far andiamo piano ma credo che sia proprio lui quindi facciamo una velocità di riproduzione a 0.25 eeeh e muto abbiamo il momento ribalto tutto eeeh devo dire molto nolaniano anche se in effetti questo è proprio il signor Affleck eeeh il signor macigno eeeh anche se per un attimo quando ho visto quella doppia moto moto con doppia ruota ho detto vabbè ciao cioè questo è eeeh e lui è è veramente christian bale perché lo dico ci sono i rumor che pare che anche bale debba comparire io non ci credo però quando ho visto la doppia moto ho detto ok magari erano nati per via del trailer ma così non credo sia eeeh e poi abbiamo l'ultimo personaggio cioè mentre tutto sembra spacciato mentre i due flash sembrano essere sconfitti credo tra l'altro proprio da dall'esercito di zod o addirittura da un esercito militare eeeh quello è il piano batman che facciamo lui dice l'importante è non non morire insomma e fa un gesto secondo me lui a chiamarla del tipo piano di riserva e arriva qualcuno io sono barry una certa cara non è clark è cara la cugina di superman supergirl eeeh lo ribadiamo james gunn ha detto che non sa attrice sarà la stessa attrice che farà la supergirl del dcu perchè deve ancora capire cosa fare con questo personaggio a questo punto se però lui si fa questo dubbio probabilmente eeeh effettivamente questo deflash avrà un peso che sembrava non dovesse avere più spero a questo punto sia un bel film io il 3 di shazam a me non ha dato niente non mi ha veramente entusiasmato per nulla questo in realtà si questo ragazzi mi ha mi ha gasato molto è un po' una cafonata assolutamente si eeeh questa gag devo dire è carina non è male non mi sembra la solita processione post mortem dei tipici film della dc ci sembra ci sia un po' più di colore il costume di lei per quel poco che si vede a me piace tantissimo eeeh oh eeeh io sono pienamente soddisfatto c'è un film del genere io non vedo l'ora di vederlo al cinema ve lo dico io già ero intrigato da da deflash per capire cosa volesse raccontare eeeh devo dire che insomma sono soddisfatto quindi fatemi sapere cosa ne pensate eeeh perché voglio voglio saperlo eeeh ditemi cosa ne pensate cosa vi ha vi ha dato questo trailer scrivetemelo eeeh boh vediamo comunque positivissimo positivissimo con questo con questo deflash veramente veramente positivo speriamo che il trailer non sia ingannevole e poi tutto il film sia veramente veramente terribile ripeto mi aspetto la cafonaggine mi aspetto il casino mi aspetto tante cose ma devo dire devo dire che è la prima volta probabilmente da The Suicide Squad e prima ancora forse veramente di Man of Steel quando quando l'universo di Sista va per arrivare al cinema che ho una voglia così così grande di vedere un film un film di sì cioè prima non mi era mai successo quindi dita incrociate dita incrociate per un film che però chiude dove chiudere sto universo cioè se poi diventa valevole per il prossimo James Gunn non deve fare scherzi però quindi quella preoccupazione del DCU a me rimane di portarsi dietro tutta sta roba io avrei rigirato il finale avrei fatto tutto questo come una roba veramente super conclusiva vedremo staremo a vedere però per adesso finger crossed dita incrociate io un po' ci credo piccola nota sulla CGI sulla resa Michael Keaton convincente Michael Keaton ha 100 stuntmen per fare le sue cose quindi vediamo CGI qualcosa va migliorato però rispetto a tanta roba che ho visto tipo quella di Black Adam tipo quella di Shazam che nel trailer veramente non mi piaceva mi ha soddisfatto devo dire anche su quel punto di vista la fotografia mi è piaciuta ragazzi ripeto finger crossed quindi piccolo appuntino ma a me questo trailer era soddisfatto vediamo vediamo giugno cosa ci porterà e anche i prossimi trailer perché ora andranno a ruota con i trailer mi sa quindi vediamo vediamo di